E' stato molto divertente E' anche diverso dal solito Molto molto carino, molto molto bravi soprattutto Gerbato, gentile E' veramente bello Molto bella l'abbinata cabaret e burlesque Molto molto bella Dire sì, dire mai Non è facile, sai Se tutti quanti siamo in orbita nella follia Lady Burlesque Cabaret Dice perché fare questo spettacolo? E' uno spettacolo nuovo, un modo di interpretare il burlesque Prende una vasta gamma di stili musicali E sono circondato da bellissime ragazze E questo naturalmente è tutto più piacevole Grazie maestro Da qui a inizio Lady Burlesque Cabaret Grazie a tutti